Sapevi che è nato un progetto per sovvertire la Chiesa Cattolica dalle fondamenta? Si chiama processo sinodale. Mi hai mai sentito parlare? Eppure, questo processo avrebbe dovuto coinvolgere tutti i fedeli, compreso te. Qual è la posta in gioco? Secondo il cardinale Gethard Müller, ex prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, portato alle sue ultime conseguenze, questo processo, almeno nella sua versione tedesca, che già sta influenzando il resto del mondo cattolico, potrebbe condurre alla distruzione della Chiesa stessa. Stanno sognando un'altra Chiesa che non ha nulla a che fare con la fede cattolica e vogliono abusare di questo processo sinodale per spostare la Chiesa Cattolica non solo in un'altra direzione, ma verso la sua distruzione. Tuttavia, nonostante la sua incidenza è potenzialmente rivoluzionaria, il dibattito attorno a questo sinodo è rimasto per lo più ristretto agli addetti ai lavori. Il grande pubblico ne sa poco. Per colmare questa lacuna, le associazioni tradizioni, famiglia, proprietà e associazioni con sorelle di diversi paesi hanno pubblicato un importante volume, Processo Sinodale, un vaso di Pandora. Scritto a mo' di catechismo con domande e risposte, il libro spiega in modo semplice e diretto qual è la posta in gioco. Clicca sul link che trovi in descrizione per scaricare gratuitamente la versione digitale oppure richiedere a pagamento la tua copia cartacea. È in atto un piano per riformare Santa Madre Chiesa che, se portato alle sue ultime conseguenze, potrebbe sovvertirla dalle fondamenta.